Ah 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 Questa è una trasmissione di emergenza Evitate qualunque tipo di contatto con persone o animali State chiusi nelle vostre case Potrei venire con te Sentivo degli strani suoni capisci Mi voltai e vedi una Ragazzina venire verso di me Era velocissima Quello che vogliono è ucciderti Tu non puoi uscire Kim Pronto 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 riuscite a sentirmi Pronto sì sì mi sento Da quanto tempo sei sola Kim? Non so da quanto tempo sono sola Kim dov'è Mike? Sei sicura che non hai in petto? Non gli dire dove siamo Solo io e te baby Non so da quanto tempo è tu Non so da quanto tempo è? No so da quanto tempo è